Torneranno domani in campo le squadre coinvolte nel campionato di Serie D Girone F per disputare la 22esima giornata di campionato. In particolare per le Molisane, Campobasso e Olimpia Gnonese previste gare casalinghe rispettivamente con il Castelfidardo e la San Maurese. I lupi scenderanno sicuramente in campo con una speranza in più, quella riaccesa dal neomister Massimo Silva che ha puntato su un'organizzazione tecnica del gioco e su nuovi acquisti. Si parlava di Daniele Frabotta e Giorgio Di Vicino. Il primo, ex difensore del Messina, è quasi confermato e andrà a rinforzare il reparto del Rosso-Blu. Il secondo, invece, che tra i lupi aveva lasciato un buon ricordo nella stagione 2012-2013, non è tesserabile. Il mercato della società campobassana si è quindi riaperto ed è in grande fermento. Dopo la sconfitta dell'ultima volta dovranno far meglio anche Granata, attualmente alla settima posizione, con 28 punti totali. Grazie.